Ciao a tutti ragazzi dal vostro Corrad, bentornati sul canale per una nuova serie, un nuovo format che andrà in onda ogni martedì alle 15 quindi mi raccomando iscrivetevi e rimanete aggiornati per non perdervi la nuova puntata di questa nuova serie e mettete mi piace per supportarla mi raccomando, oggi cominciamo con Mark Evans in 2 minuti, cominciamo Mark Evans è capitano del portiere della Reimo Yonorai e dell'Enozuma Japan, anche se viene sporadicamente schierato nel ruolo di libero caratterialmente si dimostra solare, entusiasta e tenace, è follemente innamorato del pallone e riuscirà a rifondare la Reimo 40 anni dopo le gesta della leggendaria Nozuma Eleven squadra allenata dal suo nonno, è proprio per il nonno, ex portiere, che decide di indossare i guanti e imparare le sue tecniche grazie agli allenamenti stravaganti contenuti proprio nelle punti del nonno, apparentemente deceduto prima che Mark nascesse riesce a vincere il football frontier alla sua prima partecipazione al torneo, battendo nella finale regionale la Royal Academy, imbattuta da 40 anni capitanata da Jude Sharp e nella finale batterà invece la Zeus Yonorai che, come la precedente, è raccomandata dal malvagio allenatore Ray Dark la seconda stagione della serie lo vedrà affrontare la Alius Academy e sconfiggere definitivamente il potere della pietra di Alius, grazie alla sua passione il suo giochiamo a calcio è più di un motto, per lui è uno stile di vita Evans vincerà anche il football frontier international con Inazuma Japan in seguito ad una finale emozionante contro la squadra allenata dal suo nonno, che scopre essere vivo solo pochi giorni prima la squadra si chiama Piccoli Giganti passano 10 anni e Mark diventa l'allenatore della Raymond in un Zoom Eleven Go in questa serie si sposa con Nelly Raymond, così come nel videogioco in un Zoom Eleven Go luce Metti si sposa con Camilla Travis nella versione ombra del gioco tra le sue tecniche più famose ricordiamo la mano di luce, il pugno di fuoco, la raffica esplosiva, la mano del colosso, il doppio fulmine di Inazuma il doppio trampolino di Inazuma, la rete di Inazuma, il volo della finice, il pugno di giustizia, la rispinta di Inazuma, la zona vicino alle due l'energia della terra, il martello del colosso, la scuola di energia, la partita suprema, la scia tripla, la mano omega, la mano luce V ne ha fatto davvero tante questo Mark qualche piccola curiosità il suo cognome Evans è dato dal fatto che beh si, ha preso il cognome della madre che ovviamente aveva preso il cognome del nonno per questo il suo nonno si chiama David Evans ed è il nonno materno inoltre Mark è il giocatore con più tecniche in assoluto di Nanzuma Eleven Mark Evans è anche il nome di un ex portiere inglese il suo nome originale, Mamoru, significa proteggere in giapponese bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto io vi lascio con un piccolo parere personale io credo che Mark sia un protagonista azzeccatissimo mi ha sempre fatto emozionare tantissimo e niente, vi saluto ragazzi, mi raccomando supportare la serie se vi va, condividete il video con un altro appassionato di Inazuma e commentate facendomi sapere chi vorreste vedere come prossimo personaggio in due minuti ciao ragazzi